In due anni della giunta serie non è stato fatto nulla per Fanno Città dei Bambini e il progetto è un fallimento. È il pensiero del Movimento a 5 Stelle di Fanno che, foto a seguito, crede che la situazione sia addirittura peggiorata in questi ultimi anni. Per i consiglieri pentastellati stiamo abituando i nostri bambini al peggio della politica, riunioni, assemblee, discussioni, annunci, ma niente fatti e niente di quello che il sindaco aveva promesso in campagna elettorale. Purtroppo vediamo che le azioni non ci sono, degli esempi sono abbastanza importanti e declatanti. Facciamo un esempio per quanto riguarda io vado a scuola da solo, a piedi. Praticamente i cartelli ormai sono talmente vetusti, inutilizzatili, che addirittura vengono usati quasi come sfondo per i murales. Oppure l'interquartieri, la famosa interquartieri che anche Seri sta tanto decantando, però basta fare un giro per vedere come la strada andrà a rovinare completamente un quartiere che era modello, oltretutto per fare una città dei bambini, che è quello di Poderino. Addirittura ci saranno delle barriere antirumore a ridosso di un asilo. I campetti da gioco sono stati già completamente invasi da strisce di catrame e di cemento per appunto far spazio alla strada. E per non dimenticare il famoso parco del Ballato, visto che anche in questi mesi si sta parlando del parco del Ballato, se voi fate un giro adesso è la Savana praticamente. Quindi tanti punti negativi che purtroppo non danno il senso di un affano a veramente città dei bambini e delle bambine. Purtroppo abbiamo visto tante passarelle, la Boldrini, oppure elementi spot come la chiusura di Valle Gramsci, che avverrà anche a fine maggio, ma un giorno all'anno dà poco il senso di questa città dei bambini. Come ripeto, questa non è la strada giusta, speriamo che nei prossimi tre anni si possa fare qualcosa di veramente buono, anche perché abbiamo notato una grande volontà da parte dei cittadini, delle associazioni, degli stessi dipendenti comunali ad agire in questo senso. Quindi ecco, le potenzialità ci sono, sta a noi a questo punto, noi politici, metterli in pratica.